Buonasera a tutti, buonasera Erchie, mi presento direttamente, sicuramente molti mi conosceranno, sono Mario Mancini, faccio l'avvocato e vi voglio preliminarmente presentare la mia, secondo me, meravigliosa squadra, Sabrina Morleo. Buonasera a tutti, sono Sabrina Morleo, ho 38 anni e sono una moglie e una mamma a tempo pieno. Mi sono candidata con questo fantastico gruppo perché credo in ognuno di loro e credo fortemente nel nostro candidato sindaco, Mario Mancini. Condivido e approccio le scelte che questo gruppo porta avanti con impegno e trasparenza e soprattutto senza scendere mai a compromessi. Siamo stanchi delle belle parole, Erchie oramai ha bisogno di fatti e noi siamo qui per questo. Grazie e buon voto. Grazie Sabrina. Giuseppe, Giuseppe Dreicchio. Ciao, sono Giuseppe Dreicchio, da qualche anno sono un artigiano con un passato da operario. In questa tornata elettorale io volevo partecipare da spettatore, poi però durante la preparazione dell'elezione è tornata con prepotenza la voglia di fare qualcosa di utile per tutti noi, per tutti i cittadini e per voi che siete qui ad ascoltarmi questa sera e vi ringrazio per questo. Ma per poter fare questo, il nostro candidato sindaco, Mario Mancini, io e i nostri candidati del Movimento 5 Stelle, per poterlo fare abbiamo bisogno del vostro aiuto perché il potere vi ritorna nelle vostre mani dopo cinque anni. Siete voi che dovete scegliere, dovete scegliere tra un'amministrazione uscente che vi ha buttato fumo negli occhi facendo delle promesse che poi in realtà non ha mantenute, oppure tra chi ha sempre amministrato negli ultimi anni solo che poi ha pensato bene di cambiare felpa. Insomma, come alla Salvini, poi c'è l'opposizione, sì, però l'opposizione deve essere fatta bene, perché se l'opposizione funziona, può funzionare anche meglio l'amministrazione, poi ci siamo noi. Noi vogliamo prendere dell'istanza di Erche, vogliamo farne il nostro impegno quotidiano. Per questo vi chiediamo, il 20 e il 21, di votare il Movimento 5 Stelle. E ricorda, elettore, perché il tuo destino è quello del nostro Paese, è nelle tue mani. Buonasera, sono Elena Matilla e faccio l'attività. Svolgo la libera professione da diversi anni ormai a Erche, occupandomi soprattutto di edilizia privata, conosco bene le criticità e le problematiche che avvertono sul nostro territorio e soprattutto sul nostro Paese. Ho deciso di candidarmi con il Movimento 5 Stelle per due ragioni. Il primo motivo è perché sono un'attivista da diversi anni e il secondo è perché condivido in pieno la politica della crescita. Nelle prossime serate vi invito a continuare ad assistere i diversi comissi, però faccio una piccola riflessione. Vi invito a non sentire semplicemente, ma ad ascoltare i diversi candidati. E questo vi servirà semplicemente per tirare le somme e per svolgere un voto completamente libero. Quindi ci vediamo sicuramente domani e lascio la parola agli altri candidati. Grazie. Grazie Elena. Il nostro Alessio Dell'Anna. Buonasera. Vorrei prima di tutto ringraziarvi per essere qui presenti ed ascoltarci e poi non meno importante ringraziarvi davvero di cuore per i tanti messaggi che stiamo ricevendo in questi giorni. Quindi davvero grazie per il calore e la vicinanza che ci state dimostrando in questi giorni di campagna elettorale. Grazie. Io sono Alessio Dell'Anna, ho 23 anni. Sono un diplomato geometra e uno studente di architettura del Politecnico di Bari. In questo strano 2020 ho accettato la proposta di candidarmi con il Movimento 5 Stelle abbastanza naturalmente, quasi come fosse qualcosa di scontato. Questo principalmente per due motivi. Il primo sicuramente perché sono iscritto al Movimento già da un po' di anni. E poi per una verità oggettiva. La verità qualcuno può piacere oppure no. Ma il Movimento 5 Stelle a Ercchie è l'unica forza politica perennemente presente nel territorio di Ercchie dal 2015. La bandiera del Movimento 5 Stelle è l'unica che soffia nel vento di Ercchie da cinque anni. Sicuramente io non salgo oggi e nei prossimi giorni su questo palco con la prepotenza di voler cambiare dall'oggi al domani il futuro di Ercchie, il nostro futuro. Per varie ragioni perché oggettivamente, data la critica situazione in cui ci troviamo, sarebbe difficile cambiare la situazione in pochi giorni. Però vi prometto il mio massimo impegno, la mia massima serietà, la mia preparazione per cercare di trovare e di lasciare soprattutto dopo i futuri cinque anni un posto migliore rispetto a quello in cui viviamo adesso. Sono portavoce di tutti quei giovani, delle nuove generazioni che si sentono deluse, affranse dalle amministrazioni che si sono susseguite a Ercchie fin dal 2007. Da 13 anni la nostra generazione è delusa, amareggiata dalle giunte che si sono susseguite. E poi vorrei dimostrare che questa nuova generazione, di cui tanti magari parlano male, è finalmente pronta a giocarsi le proprie carte, a rimboccarsi le maniche e a lavorare duramente per tutta Ercchie. Grazie mille. Poi sinceramente ho notato anche che molti dei candidati che hanno avuto il coraggio di ripresentarsi in questa tornata elettorale sono presenti nell'amministrazione già da prima che io nascessi. Io sono nato nel 1997, anzi c'è anche qualcuno che è dagli anni 80 che gioca a fare l'amministratore. Ercchie non ha bisogno di questo. Ercchie ha bisogno di forze nuove, di gente nuove che ha voglia di lavorare, semplicemente lavorare. La mia visione di Ercchie è quella di una linea verde, più ecologica, meno inquinata, perché il nostro piccolo paese, seppur piccolo, fidatevi che è inquinato. E poi non da meno che abbia finalmente delle strutture degne di essere chiamate tali. E fidatevi che per rendere realtà tutti questi concetti, i soldi ci sono e ci sono sempre stati. La differenza la fa solamente come vengono gestiti questi soldi, perché sono anche i vostri soldi. Grazie. Grazie, Ercchie. La nostra Lucia Tondo. Buonasera a tutti. Ci ritroviamo nuovamente in piazza. Sono passati 5 anni e mi presento, sono una psicologa. Abbiamo proposto il cambiamento 5 anni fa, lo stiamo riproponendo, questa volta con una squadra veramente fantastica. Ogni componente, ognuno, il nostro candidato sindaco, i primi, ogni componente ha veramente delle competenze in ogni campo. Io, la mia competenza chiaramente riguarda le politiche sociali. Sono 20 anni che mi occupo di complizzi, di problematiche lavorative, anche perché le persone quando non stanno bene non vengono soltanto per problemi di natura clinica. Spesso, spesso, ascolto giovani, le loro famiglie che hanno problematiche e si ammalano perché non stanno bene. Per questo motivo ho pensato, gli aiuto individualmente perché fanno richiesta nei servizi dove io lavoro o comunque privatamente, ma questa volta vorrei contribuire a dare una mano ad affrontare queste politiche molto difficili, perché far stare bene le persone è veramente difficile. Quindi se penso al nostro comune, che è un comune lento, che è un comune che ci mette veramente tanto tempo ad affrontare i problemi e a volte, poi parleremo in un secondo momento, invece anche in maniera sbagliata, quasi mi fa pensare che non conosce le problematiche che ci sono a Erche, quali sono i problemi che i nostri cittadini hanno. Quindi è un comune che non è attento, che potrebbe ascoltare soltanto perché deve ascoltare, ma poi non riesce a mettere in atto i veri servizi. Quindi io affronterò questo tema in un altro momento perché oggi è solo per presentare. Quindi ringrazio comunque l'ascolto che avete fornito e a presto. Buon voto. Grazie Lucia, il nostro Francesco Matilla. Grazie a tutti, buonasera. Io sono Francesco Matilla, ho 31 anni e sono un ingegnere. Ho studiato per parecchi anni a Torino, al nostro, nel posto dove ovviamente sarei potuto rimanere. Se ne avessi stato un po' intervento, diciamo. Invece ho deciso di ascoltare il cuore e sono tornato. Sto qua proprio perché quello che veramente vorrei è mettere insieme quello che ho imparato, le mie capacità, offre quello che magari voi avete dovuto offrire come idee. scusate. Ok, grazie. Volevo appunto mettermi in gioco proprio per questo perché in realtà sono veramente stanco di vedere la mia terra maltrattata da gente che in teoria è lì per proteggerla, per nutrirla, per farla crescere. E io credo che alla fine l'unica scelta possibile sia quella fatta da persone semplici, persone coraggiosi e intraprendenti, come quelle che ho conosciuto un mese, due mesi fa. E' della mia squadra, questa che è qua dietro, fatta di persone che vivono la vita non per arrivare, per un giorno essere chissà dove, ma perché vogliono veramente fare bene a quello che hanno intorno, a quello che loro hanno sempre vissuto, ai loro ricordi infanzi, alle loro speranze. Per questo concludo dicendo che è l'unico, questo è l'unico posto dove io riesco a stare bene, il Movimento 5 Stelle, perché credo che sia l'unico che mi ha dato quel, cioè che abbracci e che voglia dare veramente qualcosa per questo paese, senza le solide parole, le solide promesse che poi alla fine abbiamo visto tanti anni. Non sono mai state mantenute, per questo vi invito veramente a fare una scelta col cuore e anche con un po' di coraggio e di votare il Movimento 5 Stelle. Grazie. Grazie Francesco. Vanessa Lapenna. Buonasera a tutti, sono Vanessa Lapenna e ho 26 anni. Nonostante la mia giovane età, in forma di 20 anni, ho un interesse per la politica locale e nazionale e penso che ognuno di noi, nel nostro piccolo, dovrebbe interessarsi a chi e come amministra il nostro paese. In questi anni abbiamo visto quanto sia importante avere al potere persone che hanno competenze, onestà intellettuale e che agiscano per il bene comune. Conosco Mario da molti anni ormai e in lui ho sempre visto una luce particolare nei siti, la luce dell'onestà, della trasparenza e della speranza. La speranza che questo paese possa svegliarsi cambiare una volta per tutte. Soprattutto in questo momento storico, molto delicato e di abbastanza, penso che abbiamo bisogno di una persona che conosca gli archiolani e di una persona che si è sempre spesa e ha lottato contro chi ci ha indannato e ci ha umiliato. Abbiamo bisogno di distribuire i precedenti che facciano progettare e utilizzare il denaro pubblico per l'interesse comune. L'amministrazione comunale è l'istituzione più vicina ai cittadini, quella che sta a spesso contatto e quindi non deve in nessun modo favorire una persona e a riscardo di un'altra. E credo che non siamo tutti stati nazionali, con tutti i suoi diritti, senza discriminazioni e senza favoritismo. Siamo nel 2020 e questa politica fatta in situazione con tutti i suoi diritti, con tutti i suoi diritti, gli ultimi mesi prima delle elezioni, ci ha stancato. Io a 20 anni sono stanca di questo sistema, fatto di favori, di intimidazioni e di... Scusate... 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 Il nostro Giampiero Carrozzo. Buonasera a tutti, come anticipato Maria mi chiamo Giampiero Carrozzo e ho 47 anni. Probabilmente la maggior parte di voi mi conoscerà già perché da 5 anni a questa parte sono un attivista del Movimento 5 Stelle di Ergie e quindi sono stato sempre presente in questo periodo sul territorio, mi avrete visto nei banchetti, mi avrete visto agli agorà parlando al microfono come sto facendo adesso per informarvi, mi avrete visto a fianco a voi per protestare e combattere quando c'è stato da mostrare i denti, mi sono sempre speso, mi sono sempre rimboccato le maniche e mi sono sempre messo in gioco e non potevo non farlo anche adesso che mi è stato richiesto di partecipare insieme a questo gruppo, signor Mario Valcini a far parte di questa tornata elettorale, è stata una naturale conseguenza. Io ho un'idea, l'idea di quello che dovrebbe essere il bene sociale, il benessere di un cittadino deve essere la naturale conseguenza di un miglioramento della situazione complessiva della comunità, cosa vuol dire? Vuol dire che se tutti ci impegniamo, se tutti remiamo nella stessa direzione, tutti quanti stiamo meglio e solo così possiamo essere tutti nella condizione di stare meglio, non come avviene adesso che stanno bene soltanto pochi eletti o gli amici degli amici. Detto questo io non posso far altro che propormi e chiedere il vostro supporto per la realizzazione di questo progetto, chiaramente assieme alla squadra che si sta presentando stasera è a tema Mario Valcini. Io mi prendo la responsabilità di impegnarmi, a voi chiedo la responsabilità di un voto saggio e un voto libero. Buon voto a tutti. Grazie Gian Piero. Il nostro pari di San Marco. Buonasera a tutti. Mi chiamo pari di San Marco, ho 57 anni, sono biologo, però faccio l'informatore medico, purtroppo la mia attività non l'ho potuta svolgere come avrei voluto. Perché sono qui? In tanti anni naturalmente, anche per via dell'età, ho avuto diverse proposte naturalmente, come tanti altri di voi sicuramente, però questa volta mi sono sentito gratificato nell'accettare la candidatura con il Movimento 5 Stelle perché ritengo, proprio per collegarmi con quello che diceva anche Gian Piero, mi sono sentito gratificato perché ho notato che in tutti questi anni l'unica forza che veramente ha combattuto anche i soffrusi che sono avvenuti in questo Paese è stata quella del Movimento 5 Stelle, che che si dica l'unica forza che faceva i panchetti, che mobilitava le masse, che rendeva consapevole le persone è stato il Movimento 5 Stelle, gli altri non sono mai esistiti di fatto, esisteva l'amministrazione con il suo sindaco e di questo parleremo ampiamente nel corso di questa campagna elettorale e poi il nulla e questo è sicuramente un merito che bisogna dare al Movimento 5 Stelle. Quindi ho accettato la candidatura anche in virtù della squadra che mi è stata presentata, sinceramente all'inizio ero un po' scettico perché devo fare ammenda di questa cosa, non avevo molta fiducia nei giovani, ma non perché mi ritenessi inferiori, ma perché ho sempre visto un mondo un po' superficiale. Vi garantisco che mi sono ricreduto quando sono entrato in questa squadra perché i giovani di questa squadra sono incredibili, incredibili, per competenza, per capacità. Allora mi sono sentito ancora più convinto di poter entrare e l'ho fatto e ora sono contentissimo di averlo fatto. Vorrei dire una cosa, naturalmente tutti quelli che verranno qui presenteranno un programma, i programmi se voi li prendete grossomodo sono tutti uguali, il problema è la volontà di attuarlo questo programma, la capacità e la volontà, perché è facile mettere 4-5 punti in fila, è stato fatto per tanti anni, se vedete alcuni programmi di oggi sono quelli del 2015 o del 2008, quando sono state le elezioni, ma in realtà non è stato fatto niente di tutto quello. Sono sicuro che il programma che noi presentiamo sarà attuato. E poi voglio dire l'ultima cosa, la mia ambizione, se dovessimo vincere come spero, e questo naturalmente non passa solo attraverso me, ma passa soprattutto attraverso di voi, è quello di trasformare questo che vi fanno passare per favore come un diritto, perché questi sono diritti che spesso li vendono come favori. Questa è la politica che io amo, ognuno di noi ha dei diritti, quindi nessuno vi sta regalando niente, si tratta solo di farlo capire alle persone e noi lo faremo sia nel corso di questa campagna elettorale, ma spero soprattutto nel corto di una vittoria che mi auguro grazie al vostro voto. Siate liberi nel votare perché questa è la cosa più importante, in assoluto. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Buonasera a tutti, io sono Rita Carrozzo, mi conoscete quasi tutti perché lavoro da anni nell'ambito assicurativo, mi occupo anche di motorismo storico e quindi ho accettato di candidarmi al Movimento 5 Stelle, primo perché credo nei loro progetti e poi perché fermamente credo in Mario Mancini, il nostro candidato sindaco, perché per me rappresenta la massima espressione dell'onestà e questo bisogna sottolinearlo. Poi un'altra cosa, volevo anche dire che il mio impegno è rivolto per i giovani, io sicuramente penso che a breve AERCIE sia un'agenzia del lavoro, ovviamente appoggiata dalla regione Puglia, dove attraverso dei corsi formativi daremo la possibilità ai giovani in qualche modo ad avere un'opportunità, non dico sul posto di lavoro perché quello non lo promette nessuno, ma almeno attraverso dei corsi formativi formarsi in qualche modo e non rimanere fermi. Un'ultima cosa che dico è smettiamola con il clientelismo, dobbiamo dare un voto che parte dal cuore e non chiuda le raccomandazioni dalle buste delle spese, dai pacchetti delle cigarette e da tante altre cose che mi hanno, che sono venute a raccontarmi. Ed è una cosa veramente meschina, che non fa bene a nessuno perché qui la gente o noi e tutto il nostro gruppo sta qui per migliorare, per dare veramente un miglioramento a Ercie, visto che da anni ormai e sono più di 13, niente si è visto, se non un degrado generale. Pertanto smettiamola e votate con il cuore. Grazie. Grazie Rita. Luciano Cosma. Buonasera a tutti, sono Luciano Cosma, sono un segretario di studio medico. Allora, se mi avessero detto un po' di tempo fa che sarei stato uno dei candidati, veramente, non ci avrei creduto. Diciamo che ho sempre avuto una passione per il mondo della politica, non solo locale, ma anche nazionale, europea, e quindi mi sono sempre informato sui programmi, su quello che si dice, però l'ho vista sempre come qualcosa di esterno in cui mai avrei pensato di potermi cimentare. Devo dire la verità, quest'anno un po' sentivo quella voglia, quell'energia, però poi era sempre oscurata dalle paure, un po' dall'ansia, no? E quindi dicevo, vabbè, sì, pensieri miei, ma non si contribuisceranno mai. Beh, quando mi è arrivata la proposta del Movimento 5 Stelle, la mi sono detto, caro Luciano, stavolta tocca proprio a te. Supererai le ansie, la paura come oggi di parlare davanti a questo pubblico, la paura di confrontarsi, la paura di parlare con la gente, insomma. Ma lo devi fare perché questa squadra merita veramente tanto. Ragazzi, credetemi, nessuno più di questa squadra merita di avere questa possibilità, perché nonostante non avesse neanche un rappresentante nell'amministrazione, si è sempre data da fare in questi cinque anni e io ho avuto modo di conoscerli proprio per questo, perché siamo stati vicino nella battaglia contro l'impianto di compostaggio e vi assicuro che io ho visto persone che non avevano nessun briciolo di attivismo, non erano opportuniste, non avevano nessun secondo fine, semplicemente volevano avvisare la popolazione di quello che l'amministrazione faceva, solo questo, nient'altro. Ho avuto modo di rivedere le vecchie glorie degli attivisti del Movimento, insomma, ho avuto modo di conoscere i nuovi della lista e vi devo dire veramente che sono persone proprio brave, fin da subito mi hanno colpito, ci riuniamo ormai quasi ogni sera, facciamo 3.000 discorsi diversi e fin da subito mi hanno colpito tutti per la loro intelligenza, competenza e cultura e non solo questo, anche per la loro bontà d'animo, per l'onestà che emanano, ce le avete viste, hanno parlato prima di me, sono tutte persone veramente buone, che darebbero l'anima, darebbero l'anima se avessero questa possibilità e secondo me queste ultime che ho citato sono le qualità migliori per un politico, perché io sono del parere che uno può essere intelligente, acculturato, fortemente in materia quanto vuole, se non è onesto non può fare il politico. Concludo dicendo veramente, se volete farvi un bel regalo per voi e per i vostri figli, votate per questa squadra perché te lo merita. Grazie e buon voto a tutti. Grazie Lugiano, il nostro dottor Marcello Lappia. Buonasera, penso che più o meno tutti quanti mi conosciate, sono 40 anni che ho lavorato a essere e quindi sono andato in tutte le case di questo paese. Ora, mi sento molto strano qui sul palco, lo faccio proprio perché ci tengo che questo paese alla fine segni un pochino. Questi 40 anni non c'è stato un progresso, anzi sono stati dei regressi, devo dire. Quindi cerchiamo di svegliarsi finalmente, di eliminare questa specie di letanzia che invade questo paese. Siamo tutti schiavi dei ricchi amministratori, ora c'è la possibilità di cambiare, questo è un momento veramente imperdibile per cambiare. Qui ci sono dei giovani competenti, onesti, molto motivati, pronti ad ascoltare le vostre problematiche. Quindi eliminiamo il vecchiume che esiste in questo paese. Vecchie facce, vecchie persone che agiscono per interesse personale, corrompendo, addirittura ho sentito già che vanno in giro a comprarsi il voto, è una cosa ingegna che sta succedendo. Ora qui siete rappresentati da giovani bravissimi, onesti, preparati. Cercate di cogliere l'occasione per non perpetuare questa situazione di addormentamento, di letanzia, cercate di votare le persone che realmente potranno cambiare il futuro di questo paese. Io vi saluto e spero di contribuire in qualche modo a portare avanti la politica di questo paese. Questi sono i nostri candidati, ognuno con le sue specificità, ognuno con il suo valore morale, ognuno con le sue competenze. Tutti con un denominatore comune, però, siamo certi che l'unica alternativa per Erche alla passata amministrazione siamo noi. Io, guardate, non è una questione personale con gli altri candidati o con le altre liste, però andiamo per gradi. Una speranza per Erche si prefigge, come noi, di ribaltare la situazione, di cambiare le cose, ma poi purtroppo nella loro lista sono concluiti della vecchia amministrazione. Occhio che ci diranno che sono venciti, avranno cambiato idea, ma erano solo stati i primi in ogni decisione, in ogni scelta da parte della passata amministrazione. Provevano dimettersi prima. Quindi è un progetto farrato e fallibile, è fallito già dall'inizio. Una svolta per Erche, cos'è un incrocio? Un incrocio di cosa? Di varie anime. Persone che fino a poco, prima della costituzione della lista, non andano d'accordo. Ora, io capisco, poi anche le varie candidature, serve solo, occorre solo la candidatura ad amministratore di compagno, poi ci sono tutte anche in quella lista. Ora, per quanto riguarda invece la passata amministrazione, avanti insieme. Io sinceramente, forse sono ingenuo, ero convinto che non si presentassero. Io ero convinto che non si presentassero e hanno avuto coraggio, tra virgolette. o signori, dopo un'esperienza fallimentare di tale tipo, veramente non è coraggio, ma è assenza assoluta di pudore. Loro vorrebbero, hanno avuto 12 anni e mezzo, 12 anni e mezzo, per risolvere tutte le questioni che sono prontamente nel nuovo programma. Hanno avuto tempo per, volevano sei mesi per risolvere il problema dei piani particolareggiati, del Pug, non gli sono bastati cinque anni e vorrebbero risolverli successivamente. Non hanno risolto il problema del ristoro ambientale, per esempio per l'eolico e vorrebbero risolverlo con altri cinque anni. amministrazioni non hanno realizzato nessun punto dei loro tre programmi, perché sono tre amministrazioni. E vogliamo continuare a far governare Giuseppe Margheriti, sì perché sarebbe la stessa cosa, lo sapete. Il candidato sindaco di quella lista sarebbe nuovamente il facente funzioni del vecchio sindaco. E poi, perché mancanza di pudore? Vogliamo dare ancora una possibilità a chi ha condannato l'intera cittadinanza, mentre noi eravamo lì, sotto il palazzo dupale, per non fargli approvare una convenzione, dobbiamo dargli ancora la possibilità di governare questo paese perché hanno condannato la cittadinanza di Erche? Non possono avere più questa possibilità. L'hanno condannata per vent'anni, per trent'anni, la cittadinanza. Ora, io capisco che ormai non c'è assenza di pudore in ogni senso, però ovviamente voi mi chiederete, ma perché dovremmo votare voi? Dovrete votare noi perché noi stiamo lavorando per risolvere il problema dei piani particolarizzati, per esempio, e non secondo voi che ci siano persone con un solo edificabile che pagano l'inno su questo solo, ma se chiedono e rilasciano una concessione edilizia, non possono ottenerla. Non è normale, è afferrante, avviene solo a Erche. Perché vogliamo fare, ad esempio, uno sportello unico, uno sportello unico per operativo, davvero operativo, per esempio per il super bonus, per il bonus stisma, per tutti i benefici statali, regionali e comunali, senza dover andare in vari uffici, senza dover chiedere a varie persone, ma solo in un unico posto. Siamo stanchi di dover chiedere quasi per favore ogni nostro diritto. Cosa vogliamo fare anche? Vogliamo per esempio premiare anche chi costruisce una casa e vorrebbe costruirla con autosufficienza energetica da fonti rinnovabili, per esempio. Ci sono già degli incentivi statali, ma noi come amministrazione cosa dovremmo fare? Visto che si usano energie rinnovabili, dovremmo premiarli ai cittadini, anche con incentivi, ad esempio sgravando gli oneri di urbanizzazione, scontando gli oneri di urbanizzazione, perché se è vero che siamo per l'ambiente dobbiamo anche premiarli. E poi c'è, c'è presente cos'altro? La Tari, qui è particolare, noi avevamo il programma già nel, mancano 5 minuti, ma già nel 2005, nel 2015. Ce l'avevamo l'età ripuntuale, ricordo all'epoca il nostro candidato era Anna, a proposito della salute del deputato, il primo deputato della Repubblica italiana di Ercia è qui in piazza. Dicevano che non è possibile, non si può fare, non è possibile, ve l'hanno inserito nel loro programma, oltre a tutto quello che non hanno fatto, hanno inserito anche questo che è nostro e che ovviamente abbiamo nuovamente nel nostro programma elettorale. La Tari puntuale, cos'è la Tari puntuale? Meno rifiuti produci, meno inquini, meno inquini e più ovviamente poi… scusate… meno rifiuti produci e meno inquini, ovviamente, più differenti e meno paghi. Sarebbe un passaggio graduale a questo tipo di tariffa. Allora, visto che siamo per chiudere, cosa voglio dire? Nei giorni successivi vi parleremo di strutture esportive, servizi sociali, di sostegno agli esercizi commerciali, digitalizzazione degli uffici comunali, burocrazia zero e di parco giochi che ogni volta hanno promesso di realizzarli, ma non esistono, forse è l'unico paese dove non esistono qualche giorno. Io vi ringrazio, ringrazio tutti, ci vedremo prossimamente e analizzeremo tutto con più calma, con più tempo. E ricordatevi, con noi e solo con noi, che davvero in contrapposizione e con tutto il resto che si presenta, Erke vince. Grazie, grazie a tutti.